Ai 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 ai, con questo manga non ci siamo proprio. Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di un'opera che è uscita di recente per Dinit, molto diversa secondo me da quella che è la linea classica presentata da questo editore che solitamente pubblica delle cose che io amo e apprezzo davvero tantissimo. In questo periodo ad esempio ci sono Full Night, Snowball Earth, Darwin Incident, tanti volumi unici, Saturn Return, davvero tante tante opere che mi piacciono un sacco e quindi sulla fiducia ho provato anche questo però devo dire che per la prima volta forse negli ultimo periodo qualcosa pubblicato da Dinit non mi ha proprio preso. Vuoi venite in Giappone con me tra Kyoto, Osaka e Tokyo in un viaggio tra manga e cultura giapponese? Allora guarda qui sotto in descrizione. Sono infatti aperte le prenotazioni per il prossimo tour che faremo insieme dal 12 al 24 novembre prossimi. Potrebbe essere una questione di Target? Non credo. Dico questo perché l'opera è uno shonen a differenza dei moltissimi seinen che l'editore pubblica solitamente ma non credo sia questo il problema di PPPPPPP. Credo di avere detto abbastanza P. Opera di Mapolo 3 pubblicata su Shukan Shonen Jump, il settimanale weekly Shonen Jump dell'editore Shueisha, quindi assolutamente la casa elettrice in questo momento di punta in Giappone. E credo sia anche per questo motivo che l'opera che vi sto facendo vedere in questo momento costi 9,90 euro pur avendo le stesse caratteristiche degli altri volumi da 12,90 euro di Dinit ovvero il fatto che intenzionalmente dovrebbe essere più commerciale e commerciabile rispetto alle altre opere pubblicate anche se secondo me dovrebbe essere tutto il contrario perché naturalmente una delle opere che vi ho detto prima questo qui se lo mangiano. Ma partiamo dalla trama come sempre parliamo un pochino di quello che è il concept dietro a quest'opera che probabilmente è anche la cosa migliore a mio avviso ovvero proprio l'idea iniziale che ha avuto l'autore o autrice perché non ho assolutamente idea del suo genere. Ecco ci sono sette fratelli che nascono tutti con una grande dote apparentemente almeno dico apparentemente perché in realtà tutti loro suonano il pianoforte ma sei di loro lo suonano alla perfezione sono dei piccoli geni fin da quando sono davvero appunto piccolissimi mentre uno quello che sarà il nostro protagonista chiamato Lucky non tanto anche se si impegna fino alla fine non è che sappia suonare così bene anzi l'unica ad apprezzare quello che produce al pianoforte sembra essere sua madre che a causa di questo si separa da suo padre perché il padre è un geniale pianista che non sopporta di avere un figlio così incapace al piano ed è così che parte l'opera. Come dicevo appunto l'idea iniziale è molto carina il problema è che non è stata sviluppata secondo me nel migliore dei modi innanzitutto i personaggi non li ho trovati molto ben caratterizzati con la lettura del primo volume nessuno di loro dal protagonista a quelli che si possono considerare antagonisti quindi magari suo padre o il primo fratello che incontra perché da quello che ho capito ci sarà una sorta di avventura dove lui affronterà uno dopo l'altro tutti i suoi fratelli dimostrare che anche lui naturalmente sa suonare e far felice sua madre malata. Dicevo nessuno di questi personaggi mi sembra minimamente caratterizzato lui è il classico protagonista che si vede in tantissime manga per ragazzi che ha un obiettivo da raggiungere assolutamente pur non avendo nessuna capacità minima anzi ad un certo punto della storia troverà un maestro che crede in lui perché vede quella scintilla pure troppo vede questo maestro secondo me e se lo avete letto capite a cosa mi sto riferendo perché ad un certo punto quando il ragazzo suona si vedono come delle immagini che accompagnano questo suo suonare il pianoforte ma dovrebbero essere immagini e appunto il lettore vede perché è immerso nella vicenda ma dovrebbe essere l'unico che le vede non è che sono immagini talmente ispirate da risultare così vivide che tutti quelli che sono nella stanza le vedono che è quello che succede in questo manga. Il susseguirsi degli eventi secondo me è abbastanza semplice e al contempo forzato. Vi faccio un esempio siamo in questa situazione il protagonista dice non so suonare il piano non suonerò mai più letteralmente due pagine dopo sua madre le dice e dai suona e lui e va bene suono mi iscrivo a un concorso diventerò il miglior pianista del mondo letteralmente così ma anche altre minuzie che possono essere minuzie appunto magari se prese nel contesto di un manga fatto molto molto bene ma in questo risaltano ancora di più ovvero il professore dice c'è una cosa non vi dico cosa per noi spoilerare che è assolutamente proibito fare in quella scuola non si può minimamente dopo due pagine vabbè ma la faccio lo stesso dai e non ci sono conseguenze non c'è niente del genere non si capisce perché lui l'abbia potuta fare né nessun altro lo sgrida gli dice nulla niente di niente il disegno è abbastanza grezzo e abbozzato secondo me cioè non mi è piaciuto davvero per niente in questa pagina ecco si vede sua madre la madre del protagonista che letteralmente sembra più piccola di lui cioè sembra la sua sorellina piccola dell'elementario delle medie e non dico che debba sembrare una ottantenne però almeno che si capisca che è la madre quindi anche qui una estetica per niente realizzata a modo come si dovrebbe cioè i personaggi non sono caratterizzati male solo psicologicamente ma anche visivamente quindi cosa dire per me questo manga come avrete capito è assolutamente bocciato e non continuerò con la lettura fatemi sapere qui sotto con un commento invece cosa ne pensate voi se lo avete letto e se avete altre domande condividete il video mi raccomando iscrivetevi al canale attivando le notifiche e guardate qui sotto in descrizione per tutte le info utili ad esempio dove comprare le vostre magliette su pampling con il codice kirio per avere i calzini in omaggio noi ci vediamo alla prossima e ciao grazie a tutti